E siamo qui allo stand della Motorrad HP Motorrad HP Motorrad che gestisce vari business sul mondo BMW tra cui uno è quelli dell'elica che è il più grande forum di moto BMW in Italia e poi altri business come il noleggio moto di cui abbiamo appena fatto un'apertura sulla città di Roma e sulla città di Milano e poi con Wunderlich Italia ovviamente uno dei più grandi produttori di accessori aftermarket per il mondo BMW Tu sei? Io sono Matteo Spagnoli, mi occupo della comunicazione e di quelli dell'elica Senti Matteo, che tipo di moto affittate? Noleggiate, no? Giusto? È più corretto? Affittiamo praticamente tutta la gamma moto BMW partiamo dai classici 650 fino ad arrivare al 1200 GS che è questo qua, che è il nuovo modello Quindi ripetiamo l'indirizzo del sito di riferimento? Allora, l'indirizzo del sito di riferimento del noleggio è noleggiohpmotrad.it mentre il sito dell'operazione dei quelli dell'elica point è qdepoint.com E ci troviamo ovviamente qui al... Al Motodays di Roma ovviamente Ciao! Un saluto anche da parte di... Natalie, saluto tutti, ciao! Polacca, di origine polacca, con occhi azzurri Ciao Matteo, grazie! Ciao, grazie!